Cari amici, sono trascorsi alcuni mesi dalla fine del servizio e voglio ancora ringraziarvi per quello che avete fatto per noi, volontari civili. Ci avete aiutato a crescere, a maturare e tutto questo l'avete fatto non con teorie astratte o lezioni magistrali, ma con il cuore e tanto affetto. Ci avete accolti, presi in carico, riconosciuti e per questo vi sarò sempre grata. L'anno trascorso con voi mi ha insegnato ancora di più il valore delle emozioni, dei piccoli gesti, di cosa voglia dire stare accanto a persone che soffrono. Ho capito in particolare in questi mesi difficili l'importanza di tutto quello che va oltre la parola, la sensibilità, le emozioni, l'empatia e queste non si insegnano all'università e non si trovano sui libri, non vanno vissute perché diventino forza propulsiva per essere migliori e donarsi agli altri prendendosi cura di loro. E voi mi avete insegnato questo. Grazie.